Partirà sabato 23 gennaio Marche palcoscenico aperto, festival del teatro senza teatri. Un festival lungo 5 mesi che vede coinvolte fino al prossimo maggio 60 compagnie per più di 200 eventi di teatro, musica, danza e circo contemporaneo che si svolgeranno in streaming, online, al telefono o su whatsapp con 545 lavoratori dello spettacolo coinvolti. Il festival nato dalla volontà dell'assessorato alla cultura della regione Marche insieme ad Amat presenta i lavori dei 60 artisti e compagnie selezionati tra le 370 proposte pervenute a Marche palcoscenico aperto. In questa prima fase il cartellone dal 23 gennaio al 31 marzo offre 104 eventi e vede coinvolte 30 compagnie mentre la programmazione dei mesi di aprile e maggio sarà presentata prossimamente e vedrà coinvolte le altre 30 compagnie. Il cartellone con le informazioni relative ai primi eventi in programma, tra cui orari e piattaforme su cui si svolgeranno, è consultabile sul sito www.amatmarke.net Avevamo un orizzonte di attesa, sapevamo che c'erano tanti artisti marchigiani che avrebbero raccolto la sfida appunto del teatro senza teatri, di un teatro che non chiede la presenza, non immaginavamo francamente così tanti. Insomma, 370 progetti di grande valore, un lavoro di selezione molto faticoso che si è dovuto appunto forzatamente fermare a 60 progetti perché le risorse erano quelle. Ricordo che avevamo messo un tetto di 5.000 euro di contributo, che è un buon tetto, è una scelta che abbiamo fatto con la legione Marche. Per molto tempo abbiamo giustamente identificato nel luogo l'unica possibilità. Timidamente con Meama ci eravamo mossi la scorsa primavera, ad inizio lockdown con una prima rassegna che ha fatto molto parlare in Italia fino a ricevere la segnalazione di progetto dell'anno dalla rete critica, che era Now Everywhere, cioè la possibilità che la sfida, in qualche modo, che la comunicazione teatrale potesse non fermarsi malgrado il contesto. Abbiamo imparato in questo anno che tutto può essere teatro e che tutto può essere utilizzato per fare teatro, ma tutto, quando dico tutto, intendo proprio tutto, perché devo dire i nostri artisti non si sono fatti mancare nulla, ci sono progetti che si svolgono per corrispondenza, ci sono progetti che si svolgono per mail, oltre naturalmente a un utilizzo massiccio, ma questo è ovvio, anche perché abbiamo imparato a usarli al meglio, tutto il supporto digitale, quindi attraverso streaming, attraverso i social e quant'altro. Ogni progetto ha delle sue peculiarità. In certi casi è richiesto una presentazione, in certi casi addirittura, proprio perché il rapporto è molto artista-spettatore, l'artista e lo spettatore deve prenotarsi prima perché deve fare un percorso. Devo dire che un filo rosso di tutti questi interventi è una grande attenzione con lo spettatore e spesso anche di gioco. Quindi molti eventi sono anche, in qualche modo, interattivi e prevedono un rapporto con lo spettatore, devo dire, particolarmente intenso. Grazie a tutti.